Sarà una stagione molto molto importante soprattutto per la società perché vuole attestarsi nella massima categoria di B, vuole fare bene, vuole rispecchiare i risultati dell'anno scorso sempre con umiltà e rispetto degli avversari ma sicuramente ci vuole tanto entusiasmo e una mentalità forte che abbiamo già iniziato a costruire dall'anno scorso e penso che continuando con la filosofia del lavoro si possono ottenere numerosi risultati come abbiamo avuto quest'anno in campo e soprattutto fuori di risposta della città, di risposta del pubblico. La società è partita riconfermando il gruppo dell'anno scorso sicuramente per l'impegno che hanno dimostrato i ragazzi, l'attaccamento, la serietà. Purtroppo c'è stata qualche defezione come il buon Zaniboni che per motivi familiari di lavoro a cui facciamo le congratulazioni è nato un figlio stupendo e speriamo che rimanga all'interno dello staff, perlomeno dello staff tecnico. C'è il rispetto delle strategie dell'Asti che non ha iscritto la prima squadra e quindi la società nella figura di Filippo Merenda come DS ha mantenuto i rapporti con l'Asti aspettando le loro direttive per quanto riguarda il prestito di due ragazzi che ci avevano dato l'anno scorso quali Garbin 92 e Caria 95 e quindi c'è la forte volontà sia da parte dei ragazzi che da parte nostra di tenerli a faenza.